ecco un tipico esemplare di jack russell da montagna il sabato naturale ma che scivoli lì è un astimato qua ignazio moser cicilia rodriguez hanno recentemente condiviso un'esperienza avventurosa in alta montagna portando con loro il loro adorabile cagnolino tutto sembrava procedere tranquillamente fino a quando ignazio ha avuto un'idea per uno scherzo divertente mentre stavano passeggiando ha improvvisamente fatto finta che un ragno gigante fosse comparso vicino a cecilia la reazione di cecilia è stata istantanea terrore puro dipinto sul suo volto tuttavia poco dopo ha realizzato che si trattava solo di uno scherzo di ignazio la paura si è rapidamente trasformata in risate mentre i due si abbracciavano scherciosamente questa avventura in montagna non solo ha rafforzato il legame tra ignazio e cecilia ma anche dimostrato il loro spirito giocoso e la capacità di sorridere anche di fronte alle situazioni spaventose grazie Grazie a tutti.